Eccoci e bentornati sul mio canale, oggi siamo in compagnia di Agario, gioco che mi avete consigliato veramente in tantissimi Infatti me lo sono scaricato sul mio iPad e iniziamo subito a giocarci, ho fatto già un paio di partite e mi sono divertito come un matto, non lo conoscevo ragazzi Quindi adesso facciamoci un paio di partite insieme, andiamo Eccola qui la mia piccola pallina che andiamo subito a far diventare... oh porcaccia la miseria Oh oh, mamma mia, oh oh oh, e che cacchio, già sono stato mangiato dagli euro Sono stato già mangiato, oh cacchio, tocca andare Obiettivo ragazzi, almeno, che ne so, 100 punti, e che cacchio, l'Asus mi ha mandato Che cavolo, e che è, non fa molto tempo a partire che veniamo sbranati dal mondo, già ci stanno palline gigantesche Andiamo, va, vediamo un po' di fa, bella figura, non c'è due senza tre, attenzione all'Italia Attenzione all'Italia, che mi si vuole pappare, oh porco cane, quante ce ne stanno gigantesche Non la vedo per niente bene ragazzi, non la vedo per niente bene Comunque è una figata, gioco che praticamente non conoscevo, non ci ho proprio mai giocato Però è una cifra simpatico, nel senso il genere è particolare Perché come vedete è semplice come gameplay, bisogna andare con una pallina a farla diventare più grande delle altre E mangiare le altre ancora Su iPad si riesce a giocare abbastanza bene, senza problematiche Bene, mette, sono mangiato, guarda qua quante palline Guarda qua quante, attenzione a questo che mi stavo pappà Vieni qui da me, vieni qui da me, vieni qui da me Ho notato una cosa, che non so se vi è capitata Però in questa partita per fortuna no Che nelle due barra tre partite che ho fatto a questa modalità, a questo gioco Ma ha sempre ammazzato uno col cane Non riesco a capire come mai se, oh cacchio, se stavano a mangiare gli Stati Uniti d'America Via, via gli Stati Uniti d'America, ce l'ho dietro, gli Stati Uniti d'America ce l'ho dietro Andiamoci a mangiare, eccolo il cane, eccolo, eccolo, pure qua sta Vieni da me, oh porco canaccio lurido Vieni ancora gli Stati Uniti d'America che tentano l'attacco, gli Stati Uniti, gli Stati Uniti Oh l'attacco del 3G, del 3G addirittura Ma io sto in HSDPA quindi non mi potrei mangiare Mamma mia, vengo attaccato da ogni parte del mondo Prima dall'Italia, poi dagli Stati Uniti Comunque siamo mangiati un bel po' di palline Come siamo messi, trentasettesimi, non male Non male, su tablet si riesce a giocare decisamente bene Su, pooo, è Marte, Marte infatti, Mars Dico su PC, purtroppo ci gioco veramente pochissimo Quindi per forza di cose L'ho detto se esce sul coso Ma dato che me l'avete consigliato Ho detto no, me lo vado a prendere su iPad E giochiamo su iPad Anche perché c'erano ancora tantissimi e tantissimi Di giochi da farvi vedere Oh porco cane, questo se riuscissi Oh, grande Grande, questo se è tutto spacchettato Se riuscissi ad andarli a riprendere un po' di quelle palline Addirittura la NASA c'è Addirittura la NASA Alex che è più grande o più piccolo di me Vieni da me, vieni da me Alex Su, su, vieni da me Vieni da me Vieni, e perché non vuoi venire Oh che cacchio Ma, oh la Francia Addirittura la Francia, la Francia, la France La France, no, 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 no Via, 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 via Pure Marte, pure Marte Me stanno incastrà Me stanno incastrà Mamma mia Non ce la posso fare però Troppa strizza Troppa strizza Oh, oh, oh Via, 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 via Ma la Francia non c'ha un cacchio da fare Che sta a giocare solo contro te Vieni, vieni Oh, oh, oh Palla gigante Palla gigante La Francia se l'è piata con me Io sto sulle scatole Ok Ce lo siamo riusciti A levare dalle scatole Trentunesimi Trentunesimi ragazzi La Giamaica La Giamaica Vieni qua la Giamaica Annaggia te la Giamaica Oh, quante ancora palline Belle Belle Mamma mia Mamma mia Se me riuscivo a prendere pure quella Se me riuscivo a prendere pure quella Vieni Perché scappi Venite da me Venite da me Mamma mia Comunque è troppo E me c'è Fare proprio le chiuse Me c'è fare proprio le chiuse Perché poi col fatto che Come avevo detto Nello speciale 15.000 Non Non mi ci metto più a fare i video Con la Con la webcam Quando provo i giochi Quindi adesso Che li facciamo in HD Così me ci diverto Come un pazzo Perché posso portarvi tutti i giochi A cui gioco Oh, che cacchio Oh, che cacchio Ti sto se la sbudella E c'è l'Italia Che messevo a sbranà Che cacchio Pure il suo italiano Vi prego Non mi Vieni Vieni Venite Belli Belli de casa Con una botta Siamo andati a finire Ventesimi Ventesimi L'amante di tecnologia Si è mangiato un bel po' Di robetta Un bel po' Di robetta Dobbiamo andare In camera tutti gli altri Ancora C'è questi Li dobbiamo cercare Di incastrare Oh La Francia Sta in difficoltà Adesso Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Vieni Ha fatto tanto il coatto Questo qua francese Oh 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 Vieni Bene da me Oh cacchio Via 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 Vuole una mangiare la France Oh la scia Attenzione alla scia Io direi di non mangiarla Non me la vorrei mettere contro Oh ecco la France Vieni France Vieni France Che mo' ti chiudiamo all'angolo Vieni Vieni No non ce la facciamo scappare Chiudemola all'angolo con quest'altro E ce la mangiamo No però quello non mi se può mangiare a me Quello non mi se può mangiare a me Vieni 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 Oh guarda come scappa quello Guarda come scappa quello Vieni 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 da me Ok Ok preso Siamo andati a finire Quindicesimi Molto bene Molto bene la Gran Bretagna Viene mangiata Ancora l'amante L'amante show L'amante show L'amante show Che se li mangia tutti Massimo se riuscita ad arrivare Nelle mie partite Quinto Oh no 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 Porco Un momento mi se mangia Ma meno male Che se è spaccato Perché se no non so Come avrei potuto fare Questo stava pure abbastanza grande Stava Chissà che cacchio ha combinato Che Oh che cacchio Oh che cacchio Me stanno a chiude Me stanno a chiude Ragazzi Me stanno a chiude O la Giamaica No quella che bandiera Che non mi viene in mente Vieni 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 Venite dentro a me Venite dentro a me Venite dentro a me Su Bello Ottima mossa E ora ti potrei venire a mangiare Oh che cacchio Seri No 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 Ma perché mi sono spacchettato Porco cane Sono diventato piccolo piccolo Sono diventato piccolo piccolo Cacchio Vabbè dai Ci siamo fatti tre partite ragazzi Ci siamo abbastanza divertiti Un gioco veramente simpaticissimo Spero che il video sia stato vostro a gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale E ci vediamo con il video